Book two. Maria è di Madrid. Madrid si trova in Spagna. Lei parla spagnolo. Peter e Marta sono di Berlino. Berlino si trova in Germania. Parlate tedesco voi due? Londra è una capitale. Anche Madrid e Berlino sono capitali. Le capitali sono grandi e rumorose. La Francia si trova in Europa. L'Egitto si trova in Africa. L'Egitto si trova in Africa. Il Giappone si trova in Asia. Il Canada si trova nell'America del Nord. Il Panama si trova nell'America centrale. Il Brasile si trova nell'America del Sud. Il Brasile si trova nell'America del Sud. Visita il sito www.book2.d 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 www.book2.d